la ogni anno a parigi tutti quelli che contano signori lei e cher si riuniscono per partecipare al più grande evento nel mondo della moda sono un giornalista sportivo non sono un cazzo della moda ma quest'anno è stato commesso un omicidio assassinato mi fa accapponare la pelle due giornalisti si occupano del caso. Come si chiama? Chi? Il morto. Non parlo francese. Sono tutti sospettati. Com'è riuscito a rimanere al top? Approfittando con abilità delle insicurezze degli altri, come fa lei? Tutti hanno qualcosa da nascondere. Non era affatto un uomo simpatico. E tutti hanno bisogno di qualcosa da indossare. Mi stai dicendo che vai a letto con la prima persona che ti versa un bicchiere di vino? Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Giulia Roberts, Tim Robbins, Kim Basinger, Stephen Ray, Lauren Bacol, Tracy Ullman, Richard E. Grant, Anouk Eme, Danny Aiello, Terry Gart, Rupert Everett, Sally Kellerman, Lyle Lovett, Linda Hunt e Forrest Whitaker. Sesso, avidità, omicidio. Ci sono cose che non vanno mai fuori moda. La commedia più seducente dell'anno. Preta Portè, di Robert Holtman. Ci saranno tutti. Dabba Dabba Dabba